Ti rispondo in video perché è più semplice. Il punto è che se qualcuno segue le linee guida non può avere teorie strambalate, perché segue le linee guida che sono un'indicazione ben precisa su come comportarsi. Poi è ovvio che vadano adattate al paziente che si ha davanti, perché ogni persona fa storia a sé e l'alimentazione, io parlo ovviamente di alimentazione, è personalizzata e quindi segue anche un po' quelli che sono i desideri, se sono sensati ovviamente del paziente. Ci sono pazienti che magari preferiscono avere un pranzo più abbondante rispetto alla cena, o viceversa, gente che mangia molto a colazione e meno negli altri pasti, oppure mangia poco a colazione, gente che fa due spuntini, gente che non ne fa neanche uno, gente che preferisce mangiare il pane piuttosto che la pasta, o viceversa, e quindi magari non avrà il pane nella dieta, avrà solo pasta, oppure avrà solo pane e non avrà pasta, oppure avrà poco di uno, poco di uno. Cioè va tutto adattato ovviamente al paziente, ma sempre all'interno di quelle indicazioni che ci permettono poi di lavorare al meglio e in maniera scientifica. Se invece poi uno parte con le sue teorie del cavolo, non può dire che sta seguendo le linee guida, perché in quel caso allora non le sta seguendo, sta facendo di testa sua. Cioè se un medico se ne esce, che secondo la sua teoria, al paziente gli deve dare un farmaco quattro volte il dosaggio normale, e questo gli fa un danno. Non è che perché lui c'è questa teoria, allora va bene tutto. I farmaci però vanno dosati in base al paziente che si ha davanti, non è che a tutti si dà lo stesso dosaggio di farmaco in linea di massima. Il dosaggio varia in base magari alla problematica, in base al paziente che si ha, perché alcuni dosaggi di alcuni farmaci variano in base al peso del paziente, oppure variano in base al problema del paziente, perché magari lo stesso farmaco è utile in più sintomatologie per trattare diverse patologie, e in base alla patologia in atto si utilizzano dosaggi diversi. Quindi anche lì va adattato al paziente, però non si può partire dal presupposto che poi ci sono le teorie che si discostino alla linea di guida, perché non dovrebbe essere così. Ripeto, ci sono, e se qualcuno poi dice, ah no ma io sto seguendo le linee di guida, vuol dire che o non le ha melette e sparacagate, oppure le ha lette e non ci ha capito assolutamente niente, perché è possibile anche questo, che non si capiscano le linee guida, perché alcuni hanno problemi a comprendere l'italiano. Grazie.